Siamo tutti contenti e soddisfatti dell'arresto di un post-mafioso latitante da tanti anni, facciamo i complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, non c'è nulla di politico in questa cosa, è una vittoria di tutti, dello Stato, quindi nessuno sta facendo nulla di che, quindi non avviso quale siano polemiche da tirare in ballo. La sinistra c'è, poi dopo tutto questo tempo si trova in un'interazione, poi si intera Sì, alla sinistra si sono fatti polemiche, in un momento così, come abbiamo detto tutti, non bisognerebbe fare nessuna strumentalizzazione, essere contenti di un risultato raggiunto e poi lavorare perché in futuro si possa sempre fare meglio, questo bisognerebbe fare qui. E non potenziare anche gli strumenti? Ma quello sempre, siamo sempre stati favorevoli a potenziare gli strumenti per la lotta alla mafia, chi non lo sarebbe? Quindi di cosa stiamo parlando?